È un protocollo importante perché è molto pratico e credo serva. Noi abbiamo questo database nel quale dalla programmazione dell'appalto fino all'affidamento e poi anche dopo si sa tutto. Abbiamo un altro database dove sono inseriti tutti i dati e i controlli relativi alla sicurezza del lavoro che lo possa usare come fosse suo l'arma dei rabbinieri per fare le proprie indagini credo sia determinante per avere una Toscana ancora più basata sulla legalità e che fa quanto possibile anche come regione per mettere a disposizione gli strumenti per combattere la criminalità e le infiltrazioni.